Davanti a più di mille spettatori con tanti tifosi ospiti e in uno stadio fasciato di rosso per ricordare a tutti che i veri uomini vivono nel rispetto verso le donne, i giovani del Fossombrone si ritrovano la vittoria che mancava da più di un mese. Mister Fucili è costretto a fare Leonardo da Vinci e a inventare la squadra che deve fare a meno di Mea, Conti, Casolla e Bio e compagliare Germinale e altri in panchina a causa di problemi fisici. Va meglio la Vigor che presenta anche in panchina il nuovo arrivato Zammarchi, ospiti con quattro difensori, broso e pesarese di punte con il peperino Scheffer alla destra. Padroni di casa con quattro difensori, fagotti e fraternali di punte e palazzi a proporsi sulla fascia a sinistra. Inizia meglio la Vigor ma il Fossombrone prende presto le misure, la partita scivola in equilibrio senza emozioni fino al 27esimo. Dalle 27esimo bell'azione che parte dalla fascia a destra del Fossombrone, pallone che poi arriva dall'altra parte a Camilloni che lascia partire un tiro dalla lunga distanza. Alto. Risposta ospite due minuti dopo con Scheffer che riesce a liberarsi e va al tiro da pochi passi dalla porta. Palla in rete ma gol annullato per fuorigioco. All'31esimo azione prolungata, caparbia e precisa degli uomini di Mister Fucili. Palla al numero 8 Riccardo Pandolfi che lascia partire una staffilata che non lascia scampo all'estremo difensore rosso-blu. E' il vantaggio delle Fossombrone festa grande. La partita si nervosisce e ne fa le spese il numero 20 delle Fossombrone germinale che viene espulso dalla panchina. Senigallia che reagisce ma è ancora il Fossombrone a rendersi pericoloso al 43esimo con Palazzi che dà una palla buona a Leonardo Pandolfi. Rasoterra fuori di poco. Si va a riposo sull'1-0 per i padroni di casa. Ripresa con ospiti che cercano di fare più pressing con i centrocampisti pronti a inserirsi nelle azioni di attacco. Tanti cambi poi da una parte e dall'altra. Mister Clementi le prova tutte spostando anche il numero 2 Scheffer sulla fascia sinistra. Ma la Vigor raccoglie solo tanti calci d'angolo e qualche rimessa laterale a favore. Nell'unica emozione arriva al 45esimo con Pagliari, nuovo entrato che viene fermato in fuorigioco. Pagliari è un giocatore delle Fossombrone. Secondo tempo praticamente è tutto qui. Il Fossombrone vince grazie al gol messo a segno al 31esimo del primo tempo da Riccardo Pandolfi. Pagliari!